Ciao a tutti e ben tornati in un nuovo video Prima di iniziare a parlare sicuramente molti di voi avranno notato che ho ritagliato i capelli Ma non lo so, ultimamente ho questa fissa di averli corti E poi mi piacciono sinceramente di più, quindi buono così insomma Però passiamo subito al video di oggi Perché me l'avete richiesto davvero in tanti Tra l'altro ogni volta, o più o meno quasi ogni volta che pubblico una foto su Instagram Mi richiedete un filtro in particolare che utilizzo Quindi in questo video scoprirete qual è, naturalmente guardando il video dall'inizio alla fine Perché sarà un po' ricco sia dell'applicazione che utilizzo, appunto degli effetti di filtri, eccetera, eccetera, eccetera Quindi io vi lascio al video perché il video lo registrerò registrando il telefono dal PC Spero vi piaccia, vi mando un grosso bacione Allora, questo è l'interno del mio telefono Naturalmente se siete curiosi di scoprire le applicazioni che ho all'interno Vi lascio il link qua sotto del Whatsapp iPhone che ho girato poco tempo fa Adesso andiamo direttamente alla cartella Foto & Co Dove potete vedere che ho tutte queste applicazioni per quanto riguarda la modifica delle foto E vari effetti che si possono aggiungere Quelli che utilizzo maggiormente sono i primi 6 che vedete sullo schermo Quindi da Retrica a Makeup Plus E in più gli altri li utilizzo più raramente ma sono pur sempre carini Il primo che vi faccio vedere è Maldive Come vedete la utilizzo per fare i college Ci sono tutte queste varie griglie che potete utilizzare anche di forme abbastanza diverse Beh, questa è la funzione premium ma ce ne sono davvero tantissime E utilizzo sempre questa ogni volta che mi vedete fare un college Vi faccio un esempio Qui come vedete prendete le foto Vi faccio vedere che vi crea il vostro college In più qua sotto se andate su regolazione potete togliere lo spazio Oppure cambiare la forma Allungarla, restringerla, eccetera eccetera E poi, vabbè, si possono naturalmente mettere l'immagine come più vi piace Se la volete più zoomata, meno Per salvarla si va su questo E poi si mette massima e si salva Quindi questa era la prima applicazione Cioè Maldive Retrica Penso ormai la conoscete tutti Tipic invece è l'applicazione che utilizzo ogni volta che devo mettere una scritta Oppure fare una foto specificatamente con delle scritte per dirvi qualcosa Si può anche aggiungere, come potete vedere, on a square Che sarebbe il bordino esterno Io quasi sempre lo tengo originali Quindi cliccate keep original E poi potete andare avanti scorrendo la schermata Qui ci sono vari effettini Non li utilizzo mai Vado soprattutto nel reparto o aggiungi testo Come vedete fate il doppio clic Scrivete quello che dovete scrivere E poi potete scegliere font, la scrittura Ce ne sono carinissimi E poi qui potete sceglierne il colore E aggiungerlo sulla vostra foto Oppure, altra cosa che faccio Sono aggiungere i Dodeless Cioè tutti questi piccoli, vedete, immagini Tipo c'è questa tazzina di caffè Guardate che carina Che potete aggiungere Non so se avete la foto Se fate una foto al bar La mettete Ed è troppo carina E anche di questo poi si possono scegliere le colorazioni E una volta che arrivate all'ultima schermata La salvate e aspettate Ora passiamo a una delle applicazioni che utilizzo maggiormente Cioè ViscoCam Che è questa qui bianca Come potete vedere Modifico la maggior parte delle foto Per modificare una nuova foto Si clicca sul più qua sopra In alto a destra Come vedete Vi mette poi la foto qui Fate il doppio clic E cliccate sulle due barrette In basso a sinistra E così potete iniziare con tutti i filtri Vedete, questi sono i filtri Quello che utilizzo quasi sempre io È HB1 o HB2 Perché sono i filtri più freddi E se cliccate ulteriormente sul filtro Potete anche gestirlo Se lo volete mettere un po' di meno Un po' di più Solitamente io lo lascio a 9 È un po' meno finto Poi se cliccate sulla doppia barretta Invece ci sono le ulteriori opzioni Quindi c'è l'esposizione Solitamente tendo ad alzarla Ad abbassarla Insomma dipende dalla foto Poi abbiamo contrasto Radrizza Taglia Insomma tantissime cose Di solito alzo leggermente la saturazione Perché mi piace che i colori siano belli vibranti Magari non in questa foto Però comunque in foto dove necessita un po' di più di colore Poi clicco su temperatura E la vado ad abbassare ancora un po' Perché le foto mi piacciono belle fredde Poi vado su tonalità pelle Come vedete cambia Se andiamo verso giù Verso il meno Diventerà più rosa Se invece saliamo Diventa un po' più giallina Quindi solitamente le tendo ad abbassare Leggermente Sempre meno uno Insomma così E questo è generalmente quello che faccio Poi si salva E come vedete vi cambia la foto E poi ve la mette qua tra le altre che avete modificato Questa è strautile soprattutto per la luce Esposizione, saturazione Tutte quelle cose tecniche Poi abbiamo Over Che utilizzo in realtà soltanto per aggiungere le emoji Sopra una foto Quindi non ve la faccio vedere perché è molto semplice Poi c'è Makeup Plus Che è un'applicazione troppo troppo carina Potete sia fare una foto in live Oppure su Editor Su Editor potete prendere le foto dalla vostra galleria Prendo questa Come vedete vi riconosce la faccia Tutti i punti E poi potete iniziare a metterci i fard Rossetti Adesso vi faccio vedere Guardate Qui potete alzare il colore È davvero carinissima Se volete ritoccare qualsiasi cosa Qui anche i capelli addirittura Guardate Cioè è la cosa più assurda Wow 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 Naturalmente non sarà proprio un effetto super naturale Però vi posso garantire che è fighissimo Cioè guardate questo Io ci posso le giornate Poi insomma potete metterci i sopracciglia Ombretti e eyeliner Tipo proviamo che ne so L'eyeliner Vedete come lo accentua Oppure questo da pin up Poi possiamo aggiungere le ciglia finte Che in questo look già avevo Nella foto originale Però insomma se si vuole evidenziare il tutto E poi lenti a contatto Come se non ci fossero un domani Sono sempre fighissime Naturalmente vedete Più alzate l'effetto Vedete intensità 100 Più è finto Quindi magari lo andiamo ad abbassare Così magari Si può anche zoomare la foto Insomma dopo che abbiamo creato la fasa turchina Poi si può salvare Vedete ve lo salvo automaticamente Quindi anche questo è molto carino Soprattutto se volete farvi una foto E magari quel giorno siete struccate Super consigliata E adesso passiamo all'ultima Che è quella che vi dicevo anche a inizio video Che è quella che mi chiedete sempre più spesso Che contiene il filtro magico in questione Che fa questo effetto qui Andiamo sulla mia pagina Instagram E vi faccio vedere Questo effetto qui Come vedete viene tipo questo doppio riflesso Blu e rosso Ecco Vi faccio vedere come poter fare questo filtro qui Questa è un altro esempio di foto Insomma sempre questo è L'applicazione si chiama Facetune Questa qui Allora vi devo dire la verità Questa è un'applicazione a pagamento Non ricordo se costa 4 o 5 euro Però penso sia la più fondamentale Soprattutto per chi pubblica tante foto su Instagram O comunque le modifica spesso Facetune Ripeto è a pagamento Però contiene un sacco di cose molto molto belle Adesso vi faccio vedere tutte Intanto andiamo a selezionare una foto Allora andiamo a prendere sempre questa Ormai abbiamo deciso che questa sarà la nostra foto Come vedete nelle opzioni sotto Ce ne sono davvero tantissime Allora quelli che utilizzo maggiormente Di solito sono sbianca Prima che avevo capelli chiari Perché magari alcuni punti erano più giallini Quindi li sbiancavo con questa funzione qua Vedete lo passate sopra i capelli E la funzione bella di questa applicazione È che praticamente adesso vi faccio vedere C'è il primo e il dopo Cliccando su questo quadratino in basso a destra Vedete? Questo è il prima e questo è il dopo Guardate la differenza E poi cliccando su la V Naturalmente vi salva la cosa Poi abbiamo leviga Cosa qui per levigare la pelle Io su questa foto già l'avevo fatto Vi faccio vedere quanto si nota È impressionante Vi posso garantire Questo è il prima e questo è il dopo Poi c'è la funzione dettagli Se magari volete evidenziare il trucco degli occhi Guardate le ciglia come risaltano Ecco questo è il prima e questo è il dopo Guardate come cambia Davvero impressionante Poi abbiamo rimodella Ecco una delle funzioni preferite da molti Se magari siete un po' cicciottelle Non che ci sia nulla di male Però potete snellire alcune parti del corpo E vedete questo è il prima e questo è il dopo Insomma adesso mi sono un po' storpiata Ma così giusto per farvi vedere Oppure naso Se magari avete una curvetta di troppo Lo potete snellire Questo prima e questo è il dopo Quindi è molto utile Poi un'altra di quelli che utilizzo sono i filtri Naturalmente ce ne sono tantissimi E io vado alla fine E ci sono pastel 1 e pastel 2 Quello che utilizzo quasi sempre è pastel 1 Perché anche questo vedete rende i colori super super freddi E naturalmente anche questo si può cambiare di intensità Scorrendo il dito sopra la foto Altra cosa che vado a fare Sempre nella sezione filtri È la luce Se magari voglio fare una foto un po' più brillante Un po' più luminosa E adesso arriviamo a praticamente la cosa che mi chiedete più di tutte Cioè qual è quell'effetto che vi dicevo prima Con l'ombreggiatura doppia rossa e blu Per fare quello dovete andare sul lente Come vedete ce ne sono vari Ci sta anche il fisheye Che in questo caso non è molto carino Però l'effetto è l'ultimo Si chiama chromatic Eccolo qua Come potete notare Questo è l'effetto Ed è il famoso effetto Che tutti vogliono Ed è quello che infatti utilizzo sempre io Una volta finita di modificare la vostra foto Salvate Andate qua sopra in alto a destra Salva nel rullino foto E ve la salva Quindi come potete notare Queste sono le applicazioni che utilizzo maggiormente Qui abbiamo le tre foto esempio Che abbiamo fatto Eccole qua Tutte salvate Se questo video vi è stato utile Mi raccomando Pollicino in su E iscrivetevi al canale Io vi mando un bacio immenso E vi aspetto al prossimo video Ciao ciao